Per il 2023 abbiamo deciso di presentare il nuovo guadino top di gamma di casa Maver, prodotto interamente in Italia, che è l'Icaro Arm. Un guadino estremamente leggero e rigido, ha il diametro molto contenuto nelle mani. Un guadino che ci permette di pescare in canale tranquillamente, come leggete super light, quindi molto molto leggero. Viene venduto nella misura di 4 metri, ma ha la possibilità di aggiungere la sua prolunga che ci porta a 5,40 m. Anche a 5,40 m il guadino rimane estremamente rigido e bilanciato, che è quello che viene richiesto a tutti i guadini top di gamma. Una novità dell'Icaro Arm è questa finitura estremamente di pregio nel primo pezzo, con questa fascetta di GM10 della misura di 12 cm, che ci permette di avere un'extra rigidità nella prima parte vicino alla testa di guadino, che è proprio una delle parti più messe sotto stress in fase di pesca. Guadino Icaro Arm, già disponibile in tutti i Maver Shop, vi invito ad andarlo a provare. Ciao ragazzi!